Desideri la moto dei tuoi sogni? Benelli Leoncino e Benelli TRK 502, regina della strada, le trovi solo da Continoveicoli. Concessionario Benelli per Agrigento e provincia per la vendita, assistenza e ricambi. Solo fino al 15 luglio, finanziamento a tasso zero. Vi aspettiamo in via Crispi 25 Agrigento. Solo da noi il tuo sogno diventa realtà. Continoveicoli.